Ciao a tutti ragazzi qui è Nemo Progine Siamo in un nuovo video su Clash of Clans Oggi andremo a fare una nuova sfida Qui siamo contro Clash of Warriors Ma sono ancora i preparativi, mancano 17 ore Intanto richiediamo le truppe e ora sono le 8 Salutate Youtube Salutate Youtube, anche se ha scritto salutare Youtube E oggi visto che questo evento richiede ricompense di guarda Che si vinca si perde o si pareggi tutti e ottengono bottine xp doppio Durante questo evento per le guardie tra clan Ah, guardate la clan Vabbè fa niente, noi andremo a fare questo E ci vedremo quando avrò finito Vediamo, vediamo Intanto c'è il mio cane che sta facendo casino Oh my god Vediamo se è oltre il prodotto, no non ce li ha Quindi possiamo iniziare a fare così E 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 forse anche così Sì E ora andiamo Bravi scimicchi andate lì Vai Subito cura Mettiamo subito i maghi Cioè avete visto quante risorse che ha Speriamo che fatino Sì Metti cura qui Mamma mia Come l'ho messa bene Come l'ho messa bene raga Musi cura anche il re Mamma mia Cioè guardate quanto tolgono Abbiamo già fatto due stelle Abbiamo sconfitto il re avversario Abbiamo preso già 400 di delisir Sono morti tutti Perché andate sulle mura voi stupidi Vai bravi bravissimi Bravissimi bravi Però finalmente questi due coglioni Hanno finito di distruggere il mura Prendiamoci anche il nero Ecco che prendono sempre i maghi Io non lo so Solo Per primo prendono i maghi Io È una cosa che odio Vabbè abbiamo fatto il 75% Due stelle ce le siamo portate E il bonus Ce l'abbiamo 100.000 E Prepariamo l'altro esercito E andiamo a rifarne subito un'altra Siamo a pochi passi dal Dal migliorare il municipio livello 8 Il municipio livello 8 Intanto qui stiamo trovando tizi con 707.000 di nero Però sono troppo forti Ok Dai Cerca di avversari Oh non ne sto trovando nessuno Dai Attacchiamo questo Vediamo se ha truppe No E quindi benissimo Bene 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 Attacchiamo verso di qui Dai Vai E le mura sono distrutte Mamma mia come l'ho messa bene raga L'ho messa benissimo Quanto l'ho messa bene Ed è morta la torta dell'arciere Dai vai Uccidete quelle mura Quelle mura del cavolo Il cazzo ecco Ok il mortaio è andato giù Dai 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 no Guarda che non lo riusciamo a fare Per coprire sto portaglio di merda Ecco ci mette anche Guarda e barbaro Che spaccola faccia Tant'abbiamo perso Vabbè però 120 di nero Ce lo siamo preso Ok E io direi di migliorare Boh queste le ho già migliorate Queste ce le ho già tutte maxate Queste non c'ho voglia E zitta Miglioriamo una torre dello stregone Si Opla Ok Io a che tempo siamo 6 minuti Io direi che per questo video è tutto Io vi ricordo di lasciare un mi piace Arriviamo a 5 like per un prossimo episodio Iscrivetevi Attivate la campanellina Per non farvi nessun video Se non l'avete ancora fatto E noi Ci vediamo Ad un prossimo Video Eww